Ciao amici, benvenuti ad una nuova puntata di Essere DJ Oggi, parliamo del coinvolgimento. Coinvolgimento dei pubblici è uno degli aspetti fondamentali di ogni DJ e di ogni DJ set, perché? Buongiorno, sono Daniel Buralli e vi aspetto questa sera dalle 19.30 in poi qui al Palasport Palaparenti di Santa Croce sull'Arno per festeggiare insieme 40 anni della Fossa dei Lutti. Un grande anniversario, tanto sarà il pubblico che accorrerà questa sera, quindi mi raccomando anche tu devi essere uno dei nostri, come ci sarà anche DJ in Asia, quindi musica, intrattenimento, spettacolo e tante sorprese. Vi aspetto questa sera, 19.30 a Palaparenti, Santa Croce sull'Arno. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!